Un ragazzo di 27 anni, Emanuele Esposito, è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco la scorsa notte a Napoli. Il giovane, secondo quanto ricostruito dalla polizia, era in sella ad un scooter in via Gasparrini nel quartiere San Lorenzo quando è stato raggiunto da uno sconosciuto, un uomo di mezza età, che ha estratto una pistola esplodendo sei colpi d'arma da fuoco. Per Esposito non c'è stato nulla da fare. Nella sparatoria è rimasto ferito anche un altro 27enne incensurato che si trovava sul posto. Soccorso è stato ricoverato all'ospedale Loreto Mare. Le sue condizioni non sono gravi. Escluso qualsiasi legame tra il ferito e la vittima, sulla vicenda indagano gli agenti della squadra mobile, tra le ipotesi investigative e all'origine dell'agguato, un possibile regolamento di conti. Esclusi per ora collegamenti tra questo omicidio e gli ultimi fatti di sangue avvenuti nel centro storico e che vedono protagonisti aspiranti camorristi minorenni in molti casi. Esposito aveva dei precedenti per reati contro il patrimonio e non risultano quindi dal suo casellario giudiziario legami con la camorra. Per questo, pur non scartando alcuna pista, gli investigatori sono propensi a ritenere che quanto accaduto poco dopo la mezzanotte sia frutto di un regolamento di conti o legato alla vita personale del 27enne.